Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Radio Studio 3 Cristina da Firenze Ricetta del cuore Le verdure cotte a sparagi al forno Consumate crude, le verdure danno sicuramente il meglio di sé dal punto di vista dell'apporto nutrizionale con l'eccezione di alcune che devono essere consumate esclusivamente cotte le patate o le melanzane per esempio con la cottura si ha però la possibilità di elaborarle dando ulteriore spazio alla piacevolezza dello stare al tavola Asparagi al forno 1 kg di asparagi, sale, 2 o 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva 4 pomodori, origano, timo, 2 spicchi d'aglio e 50 g di parmigiano Pulite gli asparagi e privateli dell'estremità legnosa Legateli a mazzo e cuoceteli a fuoco piuttosto lento in poca acqua salata tenendoli verticali in una pentola coperta Quando sono cotti togliete la pentola dal fuoco Estraete gli asparagi, lasciateli sgocciolare accuratamente e poi disponetele in una teglia o un piatto da forno unto d'olio Pulite e affettate i pomodori Distribuiteli sopra gli asparagi e cospargete quindi con un po' di origano del timo e gli spicchi d'aglio sbucciati e pestati Spolverando infine con il parmigiano gattugiato Lasciate in forno ben caldo per una decina di minuti e quindi portate in tavola Ovviamente in mancanza di pomodori freschi è possibile impiegare della buona salsa di pomodoro